Il Comune non paga coglienza a rischio per gli ospiti della Casa Nazareth, migranti in rivolta. Accade a Casalvelino, dove la cooperativa che gestisce il centro Sprar ha chiesto al Ministero dell'Interno di interrompere il progetto. Il motivo è ben preciso. Da oltre un anno la cooperativa, che si occupa di 16 migranti, non riceve alcun rimborso dal Comune guidato dal Sindaco Silvia Pisapia. Restano fermi ben 116.000 euro che il Comune ha già incassato dal Ministero per le attività svolte nel primo semestre. La vicenda arriva dal centro di accoglienza, situato in località Verduzio, al confine tra il Comune di Casalvelino e quello di Omignano. La cooperativa ha seri problemi economici ed è stata costretta a ridurre i servizi agli ospiti. Migranti dai 20 ai 30 anni in agitazione, ieri in segno di protesta, hanno occupato la sede, impedendo ai dipendenti di entrare negli uffici. La situazione sta diventando insostenibile. I responsabili della cooperativa Casa Nazareth hanno chiesto l'intervento del Ministero dell'Interno. Insieme alla cooperativa Liris di Foggia e la Innotec di Molfetta, la cooperativa Casa Nazareth da oltre un anno gestisce lo Sprar di Casalvelino. Il raggruppamento ha vinto una gara di evidenzia pubblica. Dal primo giorno di gestione, il Comune ha delegato ogni responsabilità gestionale alla cooperativa, rifiutandosi anche di corrispondere il 5% dei servizi previsti dal Ministero. In compenso, ha frapposto ostacoli di ogni tipo a corrispondere alle competenze dovute. Carte alla mano, il responsabile della cooperativa, Claudio Lunghini, ribadisce che da sei mesi il Comune ha incassato l'importo di 116 mila euro dal Ministero dell'Interno per le attività assistenziali dovute per il secondo semestre 2017. Nel frattempo è maturato anche l'introito per incassare le competenze previste per il primo semestre di quest'anno. Tutte attività svolte in autofinanziamento. I costi per la gestione del progetto ad oggi sono stati sostenuti dalla cooperativa con l'aiuto degli istituti bancari, con la disponibilità dei fornitori ad attendere i pagamenti anche dopo mesi e con gli anticipi dei soci. Non esiste nessun SPRAR, dice il presidente della cooperativa, in cui il soggetto gestore si è comportato in questo modo, senza dare alcuna spiegazione.